Il nostro lavoro è libero professionista che archivì e capito di essere impagato per il nostro lavoro. Allora, per farmi coraggio e chiamarlo debito per avere i soldi, ripeto. Se non rimostran si tetà perché carcimo i ogni impagà e già un bel potente aspettà, l'unica cosa è resta da fare. Subit lo debito, devo chiamar e senza scuse fatlo passà. Guarda, bim, min caramis, che li debito a un min paiz, usun da un ora e jè niente da più ora. Chiamo li pagamenta 30 di solitamente, già già fai in eccessione, sull'ecitazione in continuazione e tenti usunti stali differimenti, tanche casi non già aspettà. E poi, ed lo scunt, vuolegni in parlà? Ma ora sei alla disperazione, alla scadenza ultima senza arrivà. Purtroppo, lo bunker e la passione ho portunti in lunga. E il taie, aggiun, us pagunt senza intercessione. Quindi, li soldi su m'incunte ent' una smana eventet accredità, senza martyria e summision, dessino vado all'euca, e ad ognuna compassiù, e per le insulvensi et fau condanna.